Benvenuti! Buon giorno! Benvenuti! Cara, ti presento Mrs. Clark. Mr. Clark, il nostro direttore americano. Veniamo qui! Un piacere! Very nice to meet you! Delizioso! Lei è un bravo cuoco! Veramente! Thank you! No! It's a very simple dinner! Really! Dove hai imparato anglese? All the time ago, in this school! Ah! Alla scuola! Capisco! Wine? Vino? No, grazie! Everything is ok? Perfetto! Perfetto! More? For you? No, grazie! Vogliamo accomodarci in salotto? Sì! Thank you! Vengo subito! No, no, non ci siamo! L'ambiente è gelato! Cosa c'è che non va? Ascolta la tua coscienza! Tutto è perfetto! Ma se parli italiano, sei più spontanea! Era già stata nella nostra città, è lei signora? Sì, sì, altra volta, ma mia moglie la prima volta! Sì, ma già in Italia prima, Firenze! Firenze! Firenze è una città bellissima! Oh! Una città magnifica! Oh, magnifica! Certo! Il suo italiano è perfetto, altro che il mio inglese! No, no! Il mio inglese non è niente male! Allora, on a brindisi, alla gentile signora! Grazie di essere venuti! Grazie ancora! Grazie! Il mio capo dice che ha imparato più italiano ieri sera che in sei mesi di corsi accelerati! Questi americani fanno tutto in grande, anche i complimenti! Ecco il caffè! Il mio caffè non gli piace, eppure faccio di tutto! Proprio tutto? Ascolta la tua coscienza! Certo! Hai fatto del tuo meglio! Ma ora, prova Caffè Splendid! Caffè Splendid ha il gusto quota mille! E il caffè più gustoso nasce nelle piantagioni brasiliane sopra i mille metri! Ecco il caffè! Sì! Questo è un caffè! Ora il tuo caffè gli piace! Caffè Splendid! Gusto quota mille!